Si è ricevuto così dei problemi riguardo alla disconnessione, quindi disconnetti proprio dalla partita su Fortnite quando stai giocando, quindi problemi di rete, esci dalla partita, matchmaking fallito e cose così, è possibile risolvere il problema reimpostando la nostra rete, è come se la usiamo per la prima volta, quindi facendo un ripristino. Quindi è possibile andare direttamente su risoluzioni, problemi, impostazioni, soluzioni, problemi, facciamo altri strumenti di risoluzione dei problemi, andiamo direttamente su rete e internet e facciamo esegui. Se è connesso a internet non sono stati rilevati problemi con la rete, ovviamente se hai ricevuto problemi riavvia il modem, riavvia il computer, controlla la connessione del cavo ethernet, vi consiglio sempre il cavo ethernet perché attraverso la connessione wifi ci sono sempre problemi che si disconnette da solo. Quindi usate un cavo ethernet da collegare al modem e lo colleghi al computer. Vai anche più veloce, riduci pure il ping e non hai problemi di disconnessione. Se no possiamo andare su impostazioni rete internet, impostazioni rete internet qua sopra, impostazioni di rete avanzate ed eccole qua. Questo è il mio cavo ethernet che uso sempre, non ho mai problemi di rete durante le partite, altre opzioni scheda, facciamo modifica. Vai su protocollo versione 4, ci clicchiamo sopra ed eccolo qua. Ottieni l'indirizzo server DNS automaticamente. Per ogni server che ci connettiamo, quelli ci danno dei DNS automaticamente. Oppure possiamo usare dei DNS, tipo per esempio quello del Cloudflare facendo 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 e inseriamo così il server DNS del Cloudflare. Fai ok e inserisci questo. Io visto che non ho problemi posso direttamente ottenere un server DNS automaticamente e faccio ok. Poi vado tasto destro su start, gestione dispositivi, controllo sempre se devi fare qualche aggiornamento oppure se c'è un triangolino giallo vicino a uno di queste reti, vuol dire che non funziona, qualcosa non va. Questo è il mio cavo, disabilito il dispositivo oppure aggiornato il driver. Cerco il driver nel computer, scegli da un linko di driver disponibili, metto il primo, faccio avanti e installo il driver. E chiudo qua. Ora si è disconnesso, ora si riconnette. Eccolo qua, accesso a internet. Chiudiamo un attimo qua e ora andiamo sul nostro CMD. per impostare la rete. Prompt dei comandi. In descrizione ti ho lasciato così il documento. Eccolo qua. Andiamo così a mettere il primo comando, il Pconfig Relays. e facciamo copia e fai invio e fai invio qua. Ecco. Una volta fatto mettiamo il secondo comando. Impostando la rete. Aspettiamo un attimo. E ora inseriamo l'ultimo. Ha svuotato così le cache della nostra, del nostro server DNS e poi chiudere direttamente il CMD. Se non dovesse funzionare, ritorniamo un attimo sulla nostra rete. Impostazioni di rete e internet. Impostazioni di rete avanzate. Scendi fino a giù fino a trovare il ripristino della rete. Con questo risolvi tutto. Ripristino della rete. Ripristini così la tua connessione di rete. Puoi rimettere di nuovo la password se usi la wifi. oppure come ho detto usa il cavo Ethernet che è meglio della wifi. Ripristina e riavvia il computer. Se no, tasto destro su rete. Diagnostica problemi di rete. Ovviamente ti porterà qua sopra. Serve ancora aiuto. Esci dal test di rete. Per altri problemi ancora puoi guardare gli altri video su Fortnite. Una playlist più di 110 tutorial su come risolvere tutti i problemi su Fortnite. Crash Report, Atena, DirectX, lag, problemi FPS, problemi rete, tutto. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.